Paolo vuole fare l'esercizio tecnico come cazzo non si passa con questa pianta tu tira mi ha potato hai capito perché faccio il giro largo ho preso tutti i rami in faccia ti vieno allevato no ma ce la faccio probabilmente sono a busto ora ti spingo o ti faccio cadere lo so però ora ti voglio i rami in faccia dai che resista tutto porto dio non è banale io ce la lascio a partire eh lo so potto ogni tanto si sente come delle legnate è Andrea che dà la stecca un po' ovunque ma qua c'è la merda la ragazzi la curva con la merda quella ti concentra si sta fermata di me si 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 dopo si si a bia ma qui è un po'